Sarà il genio artistico di un grande a livello mondiale ad accogliere i visitatori che sabato 21 maggio dalle 18 alle 21 varcheranno il portone di Palazzo Bracci Pagani, dopo che 4 anni di lavoro ed una spesa di 1 milione di euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, gli hanno dato una nuova veste, quella di un sistema museale a disposizione della città e dei suoi visitatori. 25 opere tra bozzetti e sculture in ogni materiale possibile dal marmo di Carrara al bronzo al cristallo di Giuliano Vangi saranno ospitate negli ambienti del palazzo fino al 21 agosto prima volta assoluta a Fano di questo grande artista di fama internazionale. Dopo 4 anni di restauro apriamo questo palazzo, la città, l'avevamo aperto in via preliminare con il FAI 2-3 mesi fa per oggi è finito, completamente finito e allestito e inauguriamo questo palazzo con una mostra eccezionale che è appunto la mostra su Giuliano Vangi. Il palazzo contiene ovviamente anche altre attività la Biblioteca Boiane di Storia dell'Arte e della Ceramica, il Museo della Scienza, lo Spazio Ruggeri, tante altre cose però abbiamo voluto aprire questo palazzo alla città. È un palazzo che da oggi resta aperto e a disposizione della città. Per suggellare questo momento così importante la scelta di Vangi non è casuale da parte della fondazione dato che 30 anni di gemellaggio tra Fano e Rastat portano il segno dell'artista toscano mostre in contemporanea nelle due città e una sua composizione che fu collocata nel decennale nella piazza Fano della cittadina tedesca. Inoltre in mostra a Fano ci sarà una statua di donna che Vangi creò per la fontana da collocare in piazza Amiani ma che non vide la sua realizzazione. C'è delle sculture di marmo, c'è dei bronzi policromi, c'è delle piccole sculture in legno, c'è delle sculture in amorio e c'è l'ultima scultura che ho fatto proprio per questa mostra a Fano che è quest'uomo seduto nella poltrona di cristallo la poltrona di Vittorio Livi della Fiam. Ha la testa di cristallo e le mani di cristallo. È una scultura abbastanza nuova, almeno per me. Grazie. Grazie.